C'è chi dice con tutte le ragioni che questa sia la nuova età dell'oro dell'Endurance. È così, quel campionato costruttori che dai 50 ai primi 80 contava quanto il titolo di Formula 1, che attirava glam e stelle alla Paul Newman e alla Steve McQueen, avventuriori di dubbia fama e le più grandi case del motorsport. Bene, quel tempo è tornato. Io da appassionato sapevo che sarebbe tornato a un grande momento come questo. Abbiamo vissuto tante volte, negli anni 70, addirittura l'Endurance era probabilmente un modo di sport a livello globale più seguito. Poi abbiamo avuto dei momenti un po' di calo, un grande ritorno negli anni 80 con il gruppo C, stupende, con vetture bellissime, velocissime, pericolosissime. Un'altra fiammata negli anni 2000 con la grande lotta Toyota, Audi, Porsche, Peugeot. E quindi io sapevo che sarebbe tornato. Devo dire la verità, non mi aspettavo un momento così straordinario. Stiamo vivendo la nuova golden era dell'Endurance. Qui da noi con la Ferrari che vince di nuovo le mani nella categoria regina. Come nella galassia dei grandi costruttori che non vogliono e non possono forse perdersi l'era dell'hypercar. Adesso ci sono tutti o quasi e chi manca, contateci, arriverà perché il futuro è già cominciato. Cetilar Racing ha scommesso nell'Endurance dal 2014. Disse a Giorgio, io guardate la Ferrari 24 di Le Mans, lui mi ha detto, è pazzo. Poi insomma, sei volte è pazzo. Per le sei e le 24 di Le Mans anche ho corso fino ad oggi. La mia prima vera 24 ore è stata con Cetilar nel 2021 con l'MP2 e da lì ho intrapreso la strada verso il mondo Endurance. Cetilar Racing sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale in questo programma per me perché mi ha dato la possibilità e l'opportunità di conoscere questo mondo che mi ha subito appassionato e da lì la nostra storia sta continuando. In realtà poi è diventata oltre quello che si poteva immaginare. Avere 10 case costruttrici ufficiali impegnate nella top class. Una categoria GT ipercompetitiva. Ecco, questo va assolutamente al di sopra delle mie aspettative. Il prossimo anno ci dovrebbero essere circa 24 me per car a Le Mans. Nel mondo dell'Endurance. Credo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa. Questo è un periodo storico, soprattutto quello che abbiamo vissuto nel 2023 con il ritorno della Ferrari nella classe regina della categoria Endurance, quindi nell'hypercar. Come pilota si vive abbastanza bene, anche se in alcuni momenti è difficile, c'è tanta tanta pressione, però è qualcosa che sicuramente ci ricorderemo. Oltre a Le Mans dove ci sono state più di 350.000 persone, ma poi si dice che a livello non ufficiale ci fossero quasi mezzo milione di persone coinvolte. Mezzo milione. Io l'ho ribattezzata la Woodstock dell'automobilismo. Però anche Monza, per esempio, 65.000 persone, 65.000 biglietti staccati, c'è qualcosa di veramente stupendo. E la cosa che mi ha colpito di più e che veramente mi ha riempito il cuore di gioia è stato vedere che almeno il 65%, quindi due terzi delle persone che erano presenti, erano sotto i 30 anni. Endurance dà di più. Devi metterci componenti aggiuntive che ti dà emozioni aggiuntive. Non c'è il singolo, ma c'è l'equipaggio. Ci sono i 3 o i 4 piloti che guidano la macchina. La componente delle crew, meccanici, tecnici, che si dedicano alla vettura è molto importante perché devono dedicarsi alla vettura per 24 ore. Devono mettere le mani sulla vettura 30 volte nella stessa gara. C'è tanto di più e quel di più è la parte più preziosa, cioè il fattore umano. L'America è lontana dall'altra parte della Luna. Aveva ragione Lucio Dalla perché quel mondo lì, quando c'è di mezzo lo sport, è molto più lontano da noi di quelle otto ore di volo. È il punto di incontro di due fiumi, quello di una tradizione sacra e difesa fino all'ossessione e di una visione che guarda altrettanto ossessivamente al futuro. Le corse l'endurance non fanno eccezione. Ci sono circuiti che sono l'equivalente del pavé della Roubaix, dove tu non puoi toccare quelle pietro o quei muretti che stanno a pochi centimetri dall'asfalto, aumentando rischi e pericoli qualche volta oltre il limite dell'accettabile. Nelle gare americane rispetto alle gare degli altri campionati la grande differenza è che non c'è respiro. Sei sempre in lotta. Rispetto all'Europa dove hai tante vie di fuga, dove a volte poi permette anche di esagerare un po' perché alla fine hai la possibilità di rientrare, invece in America non hai questa chance. Il stile è americano, diciamo, quindi è veramente bello. Insa il rischio dell'incidente, della toccata, è molto più alto rispetto agli altri campionati. Per il numero di vetture che partecipano ogni gara, per la tipologia dei percorsi, dei circuiti e per come sono fatti i circuiti in termini di sicurezza. C'è il popolo delle corse che non è fatto di semplici spettatori, ma di persone che diventano parte integrante dell'evento, che si impastano con le macchine e i piloti senza limiti di accesso, senza filo spinato, senza porte blindate dalla security. La corsa è un evento di popolo, fatto di campeggio e grigliate, di riti, di socialità. Il campionato IMSA è un campionato molto bello a livello di show, di spettacolo. Le piste in America sono molto caratteristiche. La passione dei tifosi americani durante tutti i weekend, sono lì dal giovedì fino alla domenica sempre a sostenersi, a fare delle grigliate. E' bello anche vedere la passione che hanno verso il nostro sport, verso questo campionato e questa è da sempre una carica in più. La spina dorsale del campionato americano sono quattro piste per quattro gare iconiche. Daytona in Rimar Pacifico dove si corre a gennaio, quella che è la 24 ore più iconica del mondo insieme alle mani. La folle Seabring, vecchio aeroporto militare nel cuore rurale della Florida, tra aranceti e coccodrilli. Su strade di cemento e asfalto dove le buche, i salti, le sbrecciature della pista sono qualcosa da rispettare. Respect the bumps è il motto. Watkins Glen è un meraviglioso saliscendi tra le foreste al confine con il Canada. Non lontano dalle cascate del Niagara è vicinissimo alla frontiera di rischio estremo per chi corre lì. Come ad Atlanta i moretti guardano negli occhi il pilota. Ci vuole pelo, forse in coscienza, per buttarsi dentro a queste piste qui. A tutto questo nel 2024 si aggiungerà una quinta tappa sul leggendario circuito d'Indianapolis. Quando uno finisce la stagione dell'Endurance Series e dell'Inpsa ha approvato tutti i tipi di circuito. Serve una macchina che si adatta bene, un team che riesce a interpretare bene le differenze, un pilota che si adatta a differenti circuiti. E devo dire che Central Racing ha la migliore combinazione tra meccanici e tecnici che possa darci. a tutti i tipi di circuito. A tutti i tipi di circuito. Grazie a tutti